Il 30 marzo prossimo il centro per l'impiego di Via Carissimi ad Andria dovrà lasciare l'attuale sede perché è prevista l'esecuzione di sfratto dei locali. Il comune di Andria sarebbe infatti debitore di una somma pari a quasi 80.000 euro, corrispondente a ben due anni di canone di locazione non corrisposti al locatore degli immobili che ospitano proprio il centro per l'impiego. A denunciare quanto sta accadendo è stato il consigliere comunale di Forza Italia Antonio Nespoli che ha ricordato come la città abbia già perso altri sportelli decentrati come l'Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio. Una situazione spiacevole e antipatica che proprio in un periodo comunque difficile dove i cittadini hanno bisogno di rivolgersi all'ufficio di collocamento per avere opportunità di lavoro e quindi questa situazione di sicuro non agevola alla prosecuzione del rapporto locatizio. Spero che l'amministrazione corra quanto prima i ripari perché dopo aver perso importanti uffici pubblici di riferimento non si perde neanche questa opportunità. Lo stesso consigliere comunale ha presentato una interrogazione a risposta scritta all'amministrazione comunale chiedendo interventi immediati e soprattutto una rapida risoluzione della vicenda soprattutto in questo momento storico dove i centri per l'impiego assumono un ruolo probabilmente sempre più importante per i cittadini. Più delle parole qui servono i fatti e quindi c'è bisogno che il Comune affronti questa situazione rimediando quindi alla morosità maturata. Sono certo che l'amministrazione troverà una soluzione. Tuttavia spiace constatare che si arrivi sino a questi rimedi estremi che poi naturalmente comportano una lievitazione di costi perché solo di spese legali ulteriori considerato il notevole importo che pari a quasi 80 mila euro ormai sono altri circa 10 mila euro in più e che vanno a carico dei cittadini quanto con quei soldi si potrebbero fare altre cose soprattutto in un periodo difficile per le casse dell'ente.